Buongiorno, il centro di urno è il centro di urno alla Corcinella, si trova in via Frisorti 22, è della Socioculturale, è un centro che accoglie ragazzi con disabilità, facciamo attività di lettura, animazione, manipolazione, piscina, teatroterapia, arteterapia. Se volete contattarci per poter entrare nel nostro gruppo, scrivete a diurno-socioculturale.it Grazie per la visione!